Oggi più di ieri, buonasera ragazzieri, buon lunedì amici, eccoci tornati con un nuovo video Dopo giovedì, sono riscetto di nuovo, ma non ce ne fremo un cazzo, portateci siete voi Come sempre per iniziare saluto Nico Sicolo, al quale mando un grande 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 abbraccio E mi fa piacere tornare a gastimare con lo switch lag C'è quella partita che vinceva 2 a 0, i punti in bianco laggava l'avversario ha perso 4 a 2 C'è proprio uno schifo totale, però mi fa piacere che stai tornato, piano piano torni Dede Krypton, che non ci sentiamo da un po' E Minamino, che anche lui, i miei amici di party sono scomparsi Saluto Luca Butto, l'eligno 88 Pest Player Tra l'altro iscrivetevi a questi canali, se vi va iscrivetevi anche al mio canale Saluto il gruppo Pest Fan Club Italia, saluto i miei moderatori, Tommy 80 Saluto e vi dico di seguire Stefano Carparelli, la sua produzione Sempre mettete un mi piace alla sua nuova produzione Saluto Yassin, saluto Marilyn, saluto tutti quanti quelli che mi seguono Alberto, non mi ricordo, me li devo riscrivere perché ogni volta siete davvero tanti Comunque tutti quelli che mi supporto e mi commentano i video e mi sostengono Quindi un grande abbraccio E niente, allora, come avevo detto giovedì Non spacchetto perché non me ne frego un cazzo Ho soltanto fatto qualche giro nel pull, ho fatto, avevo 800.000 GP E ho fatto giusto qualche giro E niente, formazione così Cerco di stare sotto i 4.700 perché Non lo so, voglio stare sotto i 4.700 Di valutazione di squadra Perché ogni volta che perdo una partita Ho perso con 399 l'altro giorno Quindi Vediamo la squadra così se gira Anche in base alle lettere Ci facciamo 4.000 a più Vediamo che cosa succede Non spacchetto perché non mi interessa niente di niente Giovedì vaffanculo Non spacchetto un cazzo di icon perché non mi interessa Se c'è qualche giocatore di settimana interessante è bene Se no, si attaccano E niente Vediamo un po' Tra l'altro salgo Saliamo, saliamo perché non salgo, è brutto dire Saliamo di visualizzazioni e di iscritti Va benissimo così, sono super felice E niente, e niente Visto Devin's che ieri con la squadra Proprio ha devastato quel ragazzo Vabbè Devin's è forte 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 Quindi io guardo tutti i video Metto i like, seguo Tutti i canali che seguo Tra l'altro Nei miei canali consigliati Ci sono le persone, i ragazzi che potete seguire Carontis 74 Non vorrei che questo qua è greco Di Bergao Merito 3 Cioè uno peggio di un altro siamo Io sto male 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 Proprio ho perso le partite 916 sono tornato Lui 759 Mille partite Vabbè più o meno stiamo in mezzo al caccavoi Uguale Müller, secondo tempo si può mettere 4-1-2-3 Lui c'ha Fernando Torres quello più forte Eh Denier Voglio provare Denier che ancora non fa una partita Siamo portato a Spiliqueta Eh Eh Va bene Così Così si fa così Qua si fa così Ancoraggio su Ronaldo Qua Marcatore Su L'unica marcatore che metto Guarda Tutti quanti ho palla sta Guarda qua Va bene Va bene Bayern Bayern Eh no però vedi Io c'ho Bayern C'ho Rummenig Eh Vedi Eh no Allora Allora dato che Rummenig sta Con la maglia del Bayern Non la devo mettere E per forza Ah si Vabbè andiamo così Andiamo così ragazzi Vediamo un po' Soccorrereci provare anche sto Müller Che c'è riserva di lusso Senza palla Non è che tanto mi ispiri Però Vediamo come Comunque C'ha piede debole Frequenza debole 3 3 Forma fisica 7 Proviamo Proviamo anche Sperimentiamo Che tanto È momento di Sperimentare E va bene Vediamo un po' Come va Guarda Io sapevo che non segnava Io sapevo che non segnava Ma io perché ho sbagliato io Oh No E vabbè E vabbè E vabbè Oh Già messo pausa Va bene Sempre così si parte ragazzi Andiamo Partiamo sempre forte Vai Ci ho messo pausa Mi sono mangiato il gol Prima Cioè la palla era uscita Ecco L'altro gol L'altro gol L'altro gol L'ho preso Ma che cazzo Di gioco Del Del cazzo Guarda Che gioco Del cazzo Guarda E la palla E la palla E la palla arriva indietro Va va Parto Ehhh Vabbò Tranquilli Tranquilli Vabbò 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 Eh ci viene a ridere Ci viene Vabbò 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 Sul fondo E mette il cross E c'è la madosca Guarda Ti pare Ma tu rendi conto Ma ti rendi conto Ecco Vabbò Vabbò Qua tira Manuale Tira Vabbò Ma tanto Non ti vengono a marcare Capito Non ti vengono a marcare 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 Guarda 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 Tu guarda Ma come negli su Ronaldo Ma io Perché 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 Eh dai Beckham che torna in difesa Ma allora c'ha pure Beckham Guarda che palla gli ha dato qua Guarda là Porca di una troia Dai Dai R2 Cross in mezzo Ok Cross in mezzo Sembra la stessa cosa E lui Ha preso Lui Ha preso Cross in mezzo E tutto così Se la gioca qua Perché 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 Esistono Ste partite Così Perché 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 Tra l'altro Rummenig non ha fatto un tiro Non ha fatto Cross in mezzo Tu poi Eh sì Va bene Va bene Va bene In anticipo rummenigro La maglia Cross Ma che fuori gioco era Cavellina Stava Va bene Va bene E va Eh va Non ti fa girare effetti ti importa fatto lui ma largo il gioco valla va sul fondo e la palla torna a lui ma perché va così lento ma arriva sul fondo ok eccolo oggi ma se non mi vedi incontro non mi vedi incontro ma giochi a nascondino ora le giochiamo a nascondino guarda oggi però vienimi sotto zi vienimi sotto zi guarda la cazzo della balla laterale ah ah ma perché deve mettere il cross beh vabbè no ho sbagliato vabbè facciamo così allora proviamo questo sbagliato vaffanculo vaffanculo devo mettere nulla sono avrà il compito di creare occasioni in profondità con i suoi noti di uomo assist casa in ballone ballone intercettato intervento davvero providenziale attento la conclusione cerco nuovo la domanda c'è Messi oh no perché gli ho dato la palla madonna mia perché gli ho dato la palla guarda guarda Grife guarda Grife guarda Grife guarda Grife come entra lì guarda Grife come entra lì ragazzi c'è la ragione Demis questa Grife è qualcosa di allucinante Grife guarda guarda Messi ancora Messi ancora Messi guardate Messi ragazzi guardate ragazzi ancora Messi oh fallo Messi a giro che bello che bellezza questo qui con taglio al centro che bellezza che bellezza fallo fallo bravo Paolo che palla ho dato Müller di tacco anche Müller si aggiunge la festa grande Müller grande grande fallo 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 G fallo G si mi 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 grandi ragazzi vabbè facciamoci un'altra partita va facciamoci un'altra partita grandi ragazzi grandi 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 ragazzi grandi ragazzi partitaso riservabilità quindi casemiro sta male va bene ma non ci interessa ok non sta male scaduto il contratto glielo rinnoviamo scusa se io metto se io metto la maglia del barcellona no vabbè lasciamo così va andiamoci a fare una classificata oggi ho trovato oggi conferma avversario ma non me l'hai confermato più 6 e 50 gigiaco gigiaco 88 ancora penso avvierà pezzo di merda 638 partite sale la mia percentuale di vittoria 61 e 3 oh qua ragazzi ci sta qualcosa di bello guarda qua guarda qua crife sta palla lo dobbiamo mettere pavar sta palla e lo dobbiamo mettere questo sta palla e rashford sta palla ma noi li mettiamo tutti quanti qua così andiamo così ma forse io voglio andare così voglio andare così mettiamo casimiro qua lui gioca con 3 2 3 2 eh no allora devo giocare così devo giocare così ok ok ma io mi metto la mia maglia che piace a me me ne sono fatto che mi sono scaricato questa maglia mi piace tanto e andiamo vediamo un po giovedì che possono mettere ci sarà musiala secondo me che ha fatto doppietta ah tra l'altro avevo preso rashford come tutti quanti l'ho dato a questo qua che non me ne fregava un cazzo gli ha dato tipo niente 940 920 930 910 sempre così ormai questo qui è il mio questo qui è ormai il mio standard guarda Kurtuha qua come la parata però era andato era andato forte Paolo Paolo Ronaldo prima punta ragazzi è micidiale Ronaldo prima punta Ronaldo prima punta è micidiale no il kick off no ti prego non il kick off ma cazzo ha fatto a perdersi la marcatura perché la selezionata è così brutto eh no lui porca di una puttana Maldini si è fermato puzza casca rigore che non ho spinto un tasto io ma vabbè fuori per fortuna per fortuna che rigore ha dato non lo so vabbè che l'avevo parato che tiro ha fatto quello Rashford lui gioca la sezione del portiere allora eh sì vabbò guarda guarda c'è la madosca guarda è incredibile è incredibile è incredibile è incredibile è incredibile guarda guarda bene rimettiamoci guarda 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 mannaggia la troia mannaggia contro me l'ha dato ma contro me l'ha dato contro me l'ha dato questo questo è un altro mezzo tozzichello di quelli tozzichelli guarda guarda non c'è andato che lui non si era nemmeno mosso guarda guarda mannaggia 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 la troia puttana ecco è uscito da guarda tutto lui va in mezzo mamma mia mamma mia che partita brutta che partita brutta guarda guarda non la prendo io la palla non la prendo e lui si mette il re 2 che devo fare mamma mia mamma mia che partita brutta che partita brutta che partita brutta mamma mia mamma mia guarda 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 lui non viene lui non viene da addosso capito non viene addosso lui non viene addosso non viene addosso io posso stare posso stare tutto il giorno a fare così tanto lui non ci viene lui lui torna indietro torna lui torna indietro vedi io posso stare tutto il giorno a fare così che lui lui torna indietro capito capito che lui torna indietro guarda che cazzo ho combinato pure io capito io posso stare tutto il giorno a fare così che lui torna indietro guarda guarda l'ha presa lui capito posso stare tutto il giorno a fare così capito posso stare tutto il giorno a fare così che tanto lui torna indietro e sta a posto capito non si affrontano i giocatori adesso capito lui torna indietro e sta a posto vabbè mettiamo Pippo va ma ma e va di basta che faccio così capito sta a posto io pure sono un altro coglione vedi vedi io posso stare così tutto il giorno capito devo stare così tutto il giorno va ma vabbè che volevo provare niente volevo provare facciamo così prima punta ci mettiamo romenizzi anzi no ci mettiamo son perché faccio così no ma fa culo a luigi siamo così ma si va bene va bene io faccio così e lui non ci viene sotto lui qui sotto non ci viene vito lui sotto non ci viene lui ora si è messo così no ora una tacca basta che gli abbasso guarda che cazzo è combinato io ti faccio ci portiere pur se è difensivo ahhh tutti uguali tutti uguali scontati uguali scontati uguali scontati ma tutti uguali scontati ma tutti uguali tanto io se faccio il giro palla questo qua non ci viene mai non è che dici guarda che cazzo di c***o tutti uguali ci fa segnare no uguali siete uguali e scontati tutti uguali scontati ma vabbè ragazzi questo ormai che gioco vogliamo parlare ragazzi tu c'hai io c'ho il campo libero c'avevo tutt'anno non difendeva tutti ma sai che è sempre come si chiama palla avvelenata ci chiamano palla avvelenata vabbè ragazzi che dire ho portato due partite perché pure se non spacchetto ho portato qualche contenuto ma per l'amor di dio per l'amor di dio come si chiama no un due tre stella palla avvelenata come c***o si chiama palla avvelenata scappano 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 non vengono non vengono addosso ma io dico perché 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 ma vabbè ragazzi comunque ci sentiamo a giovedì anche prima e niente i contenuti sono questi dato che ci sono Arsenal questi qua a me non mi interessa proprio per un c***o non mi interessa i giocatori la settimana scorsa non mi interessano comunque a parte che questi pezzi merda e l'Arsenal e niente ci sentiamo al prossimo video e come sempre adesso che lo so dio perdona guazzi di gol ciao